Esame di maturità superato dal Montevarchi che torna con un punto di sostanza e di autostima dal malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano. Al cospetto dei Maremmani del Gavorrano, guidati dall'ex Pierfrancesco Battistini e per molti favoriti per il salto di categoria, la squadra Rosso-Blu mette in mostra personalità, organizzazione e gioco, disputando una delle gare esterne più convincenti degli ultimi anni anche in rapporto alla forza degli avversari. Con Capitan Mannella rifinitore in gran spolvero schierato dall'inizio nel 4-3-1-2 da Simone Venturi, l'Aquila non delude il centinaio di tifosi al seguito in una giornata di estate piena. Arbitra e scontenterà tutti e due i team Matteo Centi di Viterbo. Le Aquile si scuotono e rischiano al dodicesimo sul palo del Colosso Gomes. Ora la gara è intensa e piacevole, la sblocca alla mezz'ora manco a dirlo Alberto De Pignagomes, che in corna di prepotenza è il traversone di Pupeschi. Subito dopo, minuto 34, il legno colpito da Moscati evita il raddoppio del Gavorrano, ma l'Aquila non sbanda e pareggia con merito. Migliorini suggerisce in profondità per Regoli, Salvalaggio esce male e sulla palla si avventa Leo Mannella, pronto a spedire nel sacco l'1-1. La ripresa resta di alto profilo nonostante i disastri arbitrali, funziona all'intesa Migliorini Regoli al terzo, ma anche stavolta Salvalaggio si salva sull'attaccante rosso-blu. Svolta all'ottavo con il secondo giallo sventolato sotto il naso di Biagi prima del rosso che lascia l'Aquila in dieci. Allontanato poco dopo per proteste anche il presidente Livi, Conti aveva ignorato un netto fallo di mano di Gomes prima del miracolo di Pellegrini sul destro di Brenci. Eppure, pur con l'uomo in più, è il Gavorrano a soffrire. Al ventottesimo, Regoli è steso in piena area, insorge il Montevarchi, ma anziché un penalty solare arriva alla punizione contro per dubbio fuori gioco. Il direttore di gara quindi riequilibra i giocatori in campo, cacciando Mastino, doppia munizione, e gli Aquilotti provano ancora a pungere con Masini, chiuso in corner. Poi è il team di casa a protestare per una rete di conti annullata per fuori gioco. Può bastare, il Montevarchi ferma la corazzata e si prepara con un ottimo morale al turno casalingo di mercoledì con il Viareggio.